bella gazzettari ben ritrovati con un nuovo video qui sulla gazzetta mma oggi non parliamo di ufc ma andiamo a parlare di bellator e della situazione che sta succedendo per quanto riguarda la potenziale vendita la potenziale addirittura chiusura in toto della promotion quello che ha detto scott cooker che gestisce la promotion e tutto ciò che gira intorno quindi prima di incominciare lo sapete come sempre spollisciate per supportare il mio lavoro iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video allora ragazzacci che cosa è successo sono ormai un paio di mesetti buoni che incominciano a circolare voci abbastanza importanti su una potenziale chiusura di bellator perché come tutti ben sapete bellator che è di proprietà non di scott cooker ma è di proprietà di paramount quindi questa grande emittente statunitense che tra le altre società possiede anche bellator e che ha dato praticamente in mano a scott cooker la gestione in toto della promotion scott cooker che è nel settore da una vita infatti prima era proprietario di strike force se non mi sbaglio e che ha preso bellator quando erano all'incirca verso bellator 140 bellator 150 se consideriamo che poco fa un mesetto fa hanno fatto bellator 300 diciamo che per metà della vita di questa promotion scott cooker è stato in carica è stato quello che decideva ora qual è il problema il problema è che fondamentalmente sembrerebbe che paramount sia stanca di continuare a tappare i buchi economici di bellator bellator che viene considerato comunque sia una promotion che a livello economico a livello di pecunia ragazzi non frutta molto e dunque una grande azienda come paramount che vi ripeto è immensa fanno davvero di tutto e possiedono diverse diverse aziende in settori differenti ha deciso di voler dismettere diciamo il suo impegno all'interno di bellator per cercare di puntare a qualcos'altro quindi hanno detto o la vendiamo o fondamentalmente la chiudiamo e bone e ciao ora per quanto riguarda la potenziale vendita si stavano sentendo pfl e bellator perché c'era il presidente di pfl che sembrava poter essere interessato a andare a rilevare bellator e quindi a fare una fusione pfl bellator il che a livello ragazzi di fighting sarebbe stato un qualche cosa di molto interessante perché prendi due promotion che sono indubbiamente entrambe nettamente inferiore alla gfc unisci le forze di queste due per andarne a creare una sola che sarebbe sicuramente più interessante più forte magari mantenendo il modello pfl però aggiungendo i fighter forti di bellator quella secondo me sarebbe stata un'opzione molto molto interessante e intrigante però ragazzi negli ultimi periodi sembrerebbe proprio che pfl si sia tirata indietro rispetto a questa trattativa perché considerata troppo costosa perché considerata poco economicamente conveniente e dunque i riflettori sono ritornati su scott cooker con molti giornalisti che continuano a chiedergli ma che cosa succede continuerete con gli eventi non continuerete con gli eventi e scott cooker ragazzi a me è sembrato uno che anche lui non è che sappia benissimo quello che sta succedendo quello che succederà perché vi ripeto lui è quello che comanda in bellator ma non è il proprietario di bellator quindi se si vende o non si vende e se si vende a quanto si vende sicuramente non è un qualche cosa che decide lui e probabilmente è un qualche cosa che viene tenuta lontana da lui per cercare di farlo lavorare nella miglior condizione possibile per cercare di mettergli meno pressioni possibile probabilmente gli hanno detto tu continua a fare quello che stai facendo quando ci saranno aggiornamenti te lo farò sapere quindi ragazzi potenzialmente ci potrebbe essere la chiusura dei battenti per bellator o addirittura una fusione con pfl che però in questo momento sembra più lontana rispetto a quanto poteva esserlo un paio di mesi fa però vi ricordo anche come andò la trattativa tra francis engano e pfl una trattativa che a un certo punto sembrava totalmente un qualche cosa che non si sarebbe fatto e invece ragazzi alla fine francis ha firmato con la pfl quindi mai dire mai bisogna semplicemente aspettare se si unisce con la pfl gente come chris cyborg gente come forse usman urmagomedov potrebbero andare in pfl mentre se bellator chiude sicuramente urmagomedov va al 100% in ufc mi sembra chiaro e mi sembra anche evidente che islam makachev andrà in seguito ovviamente al passaggio di usman urmagomedov in ufc nei nei leggeri andrà a cedergli anche la corona voglio dire o si ritira a un certo punto o sale di categoria un po come ha fatto kabib ragazzi quindi dirà no adesso è il momento di usman urmagomedov tocca a lui e quindi io mi ritiro salgo nei nei welter ma più che altro credo che si ritirerebbe quindi ragazzi c'è un po da capire che cosa succede chris cyborg per esempio la vedo meno propensa onestamente andare in ufc anche nel caso bellator chiudesse i battenti perché credo che dana white e lei siano ancora in guerra aperta e quindi vi terrò aggiornati con i prossimi sviluppi della situazione per adesso nonostante stiamo già vedendo fighter bellator che mollano la promotion e si accasano a pfl l'ultimo che è daniele scatizzi se non mi sbaglio quindi fighter italiano che ha mollato bellator per andare in pfl secondo me ce ne saranno tanti altri in futuro e poi vi terrò aggiornati sugli sviluppi della promotion per capire se chiude i battenti si unisce con pfl oppure se continuerà a promuovere eventi di mma come sempre prima di chiudere il video vi ricordo di spolliciare per supportare il mio lavoro di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti di attivare la campanella se volete rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo mma e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao belli ciao